Musica Ciao ragazzi bentornati su Passione Modellismo Benvenuti su Passione Modellismo Guardate che cosa qui sul banco Una nuova serie lanciata da De Agostini Guardate De Agostini che cosa mi ha spedito ragazzuoli I primi due fascicoli della Nissan Skyline GTR 34 di Brian O'Connor Del celebre film Fast and Furious O precisamente il secondo Fast and Furious Quindi di Too Fast or Furious Era l'auto principale appunto l'auto iniziale del film di Brian O'Connor Trovate qui sotto in descrizione Come al solito ragazzi basta che scorrete in basso sotto al video Troverete tutte le informazioni Se non le vedete basta cliccare su mostra altro E vedrete tutte le informazioni Basta cliccare sul link E poi guardate ragazzi insieme alla spedizione Mi è arrivato questo splendido modellino in scala 1.43 Bellissimo Della appunto della Nissan Skyline GTR R34 La leggendaria auto iconica ragazzi Del film Fast and Furious Too Fast to Furious Di Brian O'Connor Bellissimo bellissimo Che poi sarebbe Paul Walker Che a dire il mio parere ragazzi Da quando Paul Walker è insomma È venuto a mancare Diciamo che la serie di Fast and Furious Per me Opinione personale ragazzuoli È terminata insomma Da quando non c'è più Paul Walker ragazzi Non c'è più anche Fast and Furious Comunque ragazzuoli cosa dovremmo fare in questo video Andiamo un attimino a esaminare un po' i contenuti Il materiale La tipologia E soprattutto le dimensioni Del modellino una volta terminato E poi andiamo insomma ad esaminare anche un po' I fascicoli Vedere che cosa spiega Si spiega la storia del film La storia dell'auto in generale Insomma vediamo Andiamo a vedere subito Il primo fascicolo E vediamo che cosa mostra Che in realtà non è un fascicolo questo Ma è insomma una presentazione iniziale Del modellino che andrete a costruire Prima di iniziare con l'assemblaggio ragazzi Non dimenticatevi di inserire nella sezione Codice personale Il codice Nissan Italia Tutto il stampatello Una volta fatto Gli Agostini saprà Che fate parte della community Passione Modellismo Andiamo subito a vedere sul fascicolo Insomma di presentazione Che qui abbiamo La scheda tecnica Con tutte le informazioni Ovviamente reali Del veicolo in questione E poi se andiamo ad aprire Il classico La classica Paginona A quattro fogli Andiamo a vedere Insomma Come si presenta Il modellino Una volta terminato Possiamo andare subito a vedere Che è incluso Il telecomando Perché sicuramente Avrà delle funzioni dinamiche Come appunto I led sotto la scocca E ovviamente Le luci anteriori Posteriori Forse avrà anche Un audio Un suono Insomma Un suono che Era prodotto da una cassa Infatti andiamo a vedere Che ci sono i fari Le luci funzionanti Le portiere I cofini Vabbè quello è il classico Il volante in comando Le ruote Ha tensione Quindi c'è il tasso sinistro E l'estero Come stiamo facendo Per Per quell'altra Il motore romba Il claxon squille Infatti c'è anche Una funzione di suoni Va bene ragazzuoli Per quanto riguarda La misura Sono in pratica Di lunghezza 58 centimetri Di larghezza 23 centimetri Pensate un po' E di altezza 17 centimetri Potete trovare Appunto Tutte le info Qui Sul Insomma Il primo fascicolo Che vi arriverà Che in realtà È il fascicolo Di presentazione E qui ci spiega Anche il materiale Di cui appunto È costituito Sono costituiti I componenti Quindi metallo E ABS Presso fuso Quindi le componenti Insomma di carrozzeria Come al solito Tutti i modellini Che stiamo costruendo Qui sul canale Sono fatti di metallo E le plastiche Sono di ABS Presso fuso Va bene ragazzuoli Andiamo a vedere Un po' I componenti Come sono I dettagli Dei componenti Magari Potremmo fare Uno dei primi montaggi Vediamo Perché Poi vi spiegherò Anche in futuro Che cosa faremo Di questa serie Oggi invece Sarà solo Una presentazione Andiamo a vedere Che cosa ci presenta Il primo fascicolo E ovviamente I suoi componenti Andiamo a vedere Che ci spiega Del pannello frontale Andiamo subito A notare i dettagli Del paraulti anteriore Che ragazzi È spettacolare Bellissimo Il colore Insomma Delle strisce Devo dire che Vabbè Questo penso Che sia la sfumatura Frontale Poi dopo Comunque sul cofano Penso che ci sarà Quel bel blu Insomma Bello potente Come è presente Qui sul modellino Vedete Qui sul modellino È un blu Bello potente Ma invece Qua forse È un po' Più dettagliato E sfuma Sull'anteriore Ora io Non ricordavo Dire il vero Che sfumava Così sull'anteriore Però poi magari Prende un bel colore Sul cofano Va bene ragazzuoli Guardate qua Che dettagli Ovviamente questo è metallo E nulla Bello pesantino Come tutti i componenti Andiamo subito a vedere Che qui sono presenti Anche delle pese d'aria laterali Sono già fissate Sono già prefissate Sul paraurti Bellissimo 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 Poi cosa abbiamo Il cacciavitino Ovviamente De Agostini Quello che comunque Troverete in tutte Le loro serie Quando inizierete Le serie Della costruzione Di vari modelli E poi abbiamo Altri componenti Come per esempio La griglia Ovviamente Penso che sia La griglia frontale Superiore Poi abbiamo I supporti Dell'indicatore Le calotte Dell'indicatore Di direzione E il logo Guardate ragazzi Spettacolare Il logo GTR Poi da montare Nella zona centrale Frontale Del paraurti Bellissimo Bellissimo Ragazzuoli Dai facciamo Un primo montaggio Vediamo Com'è Come si presenta Il paraurti Con questi componenti Montati Poi passiamo Il secondo fascicolo E poi Parleremo Del futuro Della serie Come vi ho anticipato Prima Ok quindi Iniziamo con la prima Fase di montaggio Ragazzuoli Sembra quasi Che abbiamo iniziato Una nuova serie Ma in realtà Non è così Ragazzi È solo Insomma Una collaborazione Con gli agostini Per mostrarvi Un po' Tutti i componenti E un po' Quello che mi ha spedito E come d'obbligo Qui sul mio canale Andiamo a vedere Tutti i dettagli E vedere anche I montaggi Ovviamente Sono contento ragazzi Del ritorno Delle bustine di plastica Quelle con La funzione Della chiusura Insomma Quelle con la chiusura Così a clip Perché Sinceramente Quelle Che aveva A con bugati Ragazzuoli Quelle che si strappano Sono un po' scomode Effettivamente Perché Una volta che le strappe Poi comunque Le viti vanno Riordinate E quindi non ha senso In questo modo Però così Le possiamo tenere Tutte insieme Quindi andiamo A recuperare Quattro viti SM Quindi Savona Milano Adesso iniziamo Con le città Savona Milano Poi andiamo A recuperare Ragazzi La griglia frontale Bellissima Ok La griglia frontale Ovviamente È in plastica E anche Il suo logo Dobbiamo andare Semplicemente Andare ad inserire Il logo Ovviamente Nella parte centrale Della griglia In questo modo Mamma mia ragazzi Vada Spettacolare Spettacolare Ora andiamo Ad inserire La griglia Del paraurti anteriore La andiamo A posizionare Nella sua posizione Quindi qui In questo modo Una volta posizionata La griglia Ragazzi Con le quattro viti Savona Milano SM Andiamo a fissare Le quattro viti Presenti Nella zona Retrostante Del paraurti anteriore Andiamo a utilizzare Il cacciavite In dotazione Vediamo com'è Ok Non male Non male Beh ovviamente Ragazzi Sperando che questo cacciavite Possa durare Per tutta la serie Poi dopo Ne parleremo dopo Comunque andiamo A montare la griglietta Ecco qua Ci siamo Griglia montata Bellissima Guardate qua Bellissima Ora andiamo a montare I supporti Dell'indicatore Di direzione Ovviamente qui abbiamo La solita La solita dicitura L e R Una volta fatto questo Ragazzi Possiamo andare a montare Le plastiche esterne Della calotta In questo modo A pressione Una E una Due Spettacolare Guardate qui Poi giustamente La parte posteriore Ragazzi Abbiamo il foro Dove sicuramente Poi ci andremo A inserire Il leddino Che poi Illuminerà Insomma La zona Dell'indicatore Di direzione Bellissimo Bellissimo Ora andiamo a vedere Il secondo fascicolo Ragazzi Di questa serie Fantastica Ragazzuoli Io la voglio costruire Davvero tutta Perché è Spettacolare Io sono cresciuto Con questa saga Ragazzi Con Fast and Furious E riavere Tra le mani Un modellino A livello Leggendario Insomma Anche a livello Insomma Cinematografico È spettacolare È spettacolare Ragazzuoli Dai Facciamo Un primo montaggio Anche del secondo fascicolo Andiamo a vedere Un po' Cosa c'è All'interno dei fascicoli Che tipo di spiegazioni Dai Tutto E poi Andiamo alla fine Allora Andiamo ad aprire Un po' Anche il fascicolo Ora Nel primo fascicolo Non l'ho mostrato Ma Come potete vedere Spiega un po' Dell'auto La storia dell'auto Insomma Delle Skyline Della versione Ovviamente Non so se parla Delle versioni classiche O anche le versioni Quelle GTR Ma penso che In questa spiegazione Parli un po' Delle GTR E qui Parla anche un po' Del film Questa scommessa vincente È la scena Praticamente Dove Iniziale del film Dove Per vincere la prima gara Dove volerà dal ponte Non so se ve lo ricordate Mamma mia ragazzo E poi Spiega anche la storia Della Nissan Spiega un po' tutto Parla un po' Del film Un po' Della storia Della Nissan E un po' Della storia Della Skyline Skyline R34 Parla un po' Anche delle vecchie versioni Come potete vedere E qui inizia La spiegazione Di montaggio Beh come dire ragazzi Ovviamente Tutti i fascicoli Sono davvero Davvero Belli Da sfogliare Le immagini Sono bellissime E ovviamente Le spiegazioni Sono molto molto Dettagliate Cosa che vi consiglio Anche ragazzi Dei fascicoli Che ordinerete Andatevele a leggere Perché Ci sono un sacco Di informazioni Utili Quindi ragazzuoli Iniziamo col montaggio Vi spiego un po' I componenti Di questo secondo fascicolo E ultimo fascicolo Di questa presentazione Spero che vi piaccia Ragazzi Vi ho fatto un video Molto molto nel dettaglio Ovviamente ragazzi Il montaggio Non va a mancare Quindi Ve lo devo fare Perché anche io Sono curioso Di maneggiare Insomma Tutti i componenti Vedere un po' Come si presentano Una volta finiti Io sono fatto così Ragazzuoli Vai iniziamo Con il secondo fascicolo Che andremo a montare Ovviamente ragazzuoli La ruota anteriore destra Guardate il cerchio Della Skyline A dir poco Spettacolare I componenti Sono praticamente Identici Al veicolo originale Beh ovviamente ragazzi È Insomma Una replica Ok In scala 1 a 8 Bellissima Dai Iniziamo con il montaggio I componenti Sapete già ragazzi La parte interna Esterna del cerchio La parte ovviamente Centrale Esterna del cerchio Lo pneumatico Quattro viti Bologna E i dadi Questo telaio di plastica Dove ci sono appunto Stati i dadi Dove andremo a staccare I dadi in questione Che poi andranno poi Inseriti nella parte centrale Del cerchio Ok E poi abbiamo Ovviamente Il coprimozzo HRE Performance Bellissimo Guardate qua Che dettagli Spettacolari Bene Iniziamo col montaggio Posso farvi notare Ragazzuoli Che sullo pneumatico Questa volta Però abbiamo La dicitura di direzione Abbiamo Vedete Right Ora qua Non riuscirò mai A farvelo vedere Ma posso mostrarvi Che abbiamo appunto Right Eccolo qui E se andiamo a girare Al contrario Abbiamo Left Questa è una bella novità Ragazzuoli È una grande novità Anche perché Insomma Nelle serie precedenti Ragazzi Dovevamo vedere Insomma Il battistrado Dove era rivolto Però in questo caso Abbiamo Le frecce direzionali Molto molto comode Molto molto comode Quindi dai Iniziamo comunque Nella zona appunto Di destra Right Andiamo a recuperare La parte interna Del cerchio Quella Con il piattello stretto E le andiamo ad inserire In questo modo Quindi esatto Ragazzi Questa qua Sarà la parte Appunto Anteriore Del cerchio Della ruota Anteriore Destra Poi andiamo Nella parte posteriore Andiamo ad inserire Quella larga In questo modo Ovviamente ragazzi Bisogna direzionare I fori Sia per il componente Da un lato Che per l'altro Quindi bisogna Centrarli Correttamente Guardate che bel Cromo ragazzi Bellissimo Mamma mia Ok Ok Una volta centrati Precisamente Ci siamo Ora cosa dobbiamo andare a fare Andiamo a recuperare Ovviamente La parte centrale Del cerchio Tenendo a mente Che dobbiamo inserirlo Correttamente Con I fori Quindi andiamo ad unire Per bene I componenti Andiamo a posizionare La parte centrale Del cerchio Stiamo attenti a non Strisciare Insomma O rovinare Il componente Ma che spettacolo Ragazzi Guardate qua Mamma mia Una volta centrato Il tutto Ragazzi Ovviamente Andiamo a recuperare Tre viti BM Andiamo a fissare Appunto Le tre viti Nella parte centrale Quindi uno Due E tre Molto semplice Ok ragazzi Una volta strette bene Tutte e tre Le viti Ci siamo Eccoci qua Ora l'unica cosa Che ci rimane da fare È andare a staccare Ovviamente I dadi In questo modo Andiamo a staccarne Sono Tre Quattro e cinque Tre Quattro e cinque E ce ne rimane Una di scorta Eccola qui Andiamo ad inserire Ovviamente a pressione I dadi Però ragazzi Dai ci siamo Eccolo qua Il cerchio Una volta terminato I dettagli sono Alquanto spettacolari Ragazzi E devo dire Che tutti i componenti In generale Sono davvero Davvero molto belli Quindi ragazzuoli Siamo giunti Alla fine di questo video Presentazione Di questa splendida serie Che ha lanciato De Agostini Voglio ringraziare Ovviamente De Agostini Personalmente Per avermi spedito Questi due fascicoli Per mostrarvi un po' Questa splendida serie Che davvero Ve la consiglio Ragazzuoli Davvero Oltre che comunque Insomma Il modellino In scala 1 a 8 Spettacolare E di un'auto Leggendare Ragazzuoli Perché Per chi ha appassionato Questa serie va benissimo Per chi ha appassionato Ovviamente Del film Di Fast and Furious Oppure di tutta la saga Di Fast and Furious Perché Insomma Ha come attore preferito Paul Walker Che interpreta Brian O'Connor Nel film appunto Di Too Fast and Furious Dove guida appunto Questa Leggendaria Skyline Oppure anche Per gli appassionati Anche delle Skyline In generale Del Nissan Skyline GTR In generale Devo dire che comunque È un bel modellino Da mostrare Una volta terminato E poi È un bel È un bel modello Per non parlare Ragazzi Che se vi abbonate Ovviamente Alla serie di Fast and Furious Sul sito De Agostini Potrete ottenere Fantastici gadget Poi magari Vi dimostrano In sovraimpressione Davvero molto belli La tazza Insomma Ci sono un sacco di cose E non dimenticatevi Di inserire il codice Nissan Italia Tutto in stampatello Una volta fatto De Agostini Saprà che fate parte Della community Di passione e modellismo Beh che dire ragazzuoli Questo video finisce qua E il futuro Della serie Che cosa ci faremo Con questa serie Allora Questo non è l'inizio Di una nuova serie È solo una presentazione Ma Vi volevo parlare un po' Anche del Insomma Del futuro Ecco E voglio ringraziarvi Davvero di cuore Oltre che ringraziare Di Agostini Voglio ringraziare anche voi Per essere arrivati Fino a qui Anche con la prima collaborazione Con gli Agostini Non è facile Però Allora Il futuro di questa serie La faremo Non la faremo Sì La faremo Ma se questo video Raggiunge almeno 100 mi piace Ebbene sì ragazzuoli Perché Ho notato che sul canale Di passione e modellismo C'è Insomma Funziona I video vengono guardati Ma c'è poca interazione Quindi ho deciso di inserire Questa novità sul canale La serie si farà Se questo video Raggiungerà almeno 100 mi piace Spero che il video Vi sia piaciuto Noi ovviamente Ci vediamo venerdì Con un nuovo video Non lo so Cosa andremo a fare ragazzi Poi venerdì Ve lo spoilererò direttamente E noi ci vediamo Sulla pagina Instagram Anche lì Mostrerò un po' Di cose fighe Della Nissan Skyline Appunto Di questi splendidi Componenti E di questa splendida Ovviamente serie E noi ci vediamo Benedì Ciao belli Grazie